Incidente sul lavoro a Vallefoglia, operaio, soccorso in eleambulanza. Donna uccisa dal cane a Mercatino Conca, ambientalisti vogliono adottare l'animale. Pesero vara il nuovo regolamento di polizia urbana. Elezioni a Fano, varato il manifesto programmatico del centro-sinistra. Oikos compie 40 anni di pittura sostenibile. Buona serata a tutti voi amici e amici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale delle Canale 80 che in questa edizione di martedì 5 di marzo apriamo occupandoci purtroppo di un nuovo infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina quando è dovuta intervenire l'eleambulanza a Montecchio di Vallefoglia attorno alle 11. Un intervento di soccorso in seguito alla gravità delle ferite riportate dall'operaio di una vetreria che sarebbe stato colpito da una lastra di vetro che ne ha procurato lesioni agli arti inferiori con necessità di trasporto d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona. Si è invece tenuto ieri il funerale di Gianna Canova, l'84enne di Mercatino, conca morta azzannata dal suo cane lo scorso giovedì. E' ancora incerto il futuro dell'animale, pastore dell'Asia minore di 8 anni e di 60 chili attualmente nelle Canile di Ca' Lucio ad Urbino. Si attende il risponso veterinario dell'AST che ne valuti la possibilità reeducativa oppure ne disponga l'abbattimento. Eventualità estrema quest'ultima sulla quale si oppongono diverse associazioni ambientaliste, tra queste anche qualcuna che ha chiesto di adottare l'animale. Ed ora ci spostiamo su Pesaro, dove il Comune vara un nuovo regolamento di Polizia Urbana snellendo e aggiornando un documento ormai vecchio di quasi 90 anni. La Giunta Comunale di Pesaro, attraverso l'assessore all'operatività Enzo Belloni, ha presentato oggi il nuovo regolamento di Polizia Urbana da presentare in commissione e sottoporre al voto del Consiglio Comunale. Si tratta di un nuovo regolamento pensato per snellire un documento che risale a 90 anni fa, divenuto obsoleto e poco consono alle esigenze attuali, nonché fuori fase rispetto a leggi statali e regionali e alle disposizioni inserite negli altri regolamenti comunali approvate negli ultimi anni. Una delibera che sarà anche un importante atto di semplificazione, riducendo da 175 a 38 gli articoli. Uno strumento che permetterà di affrontare con celerità situazioni legate in particolar modo alla condivisione di spazi e alla diversa percezione di disturbo, sicurezza, decoro e rispetto. Tra le novità introdotte ci saranno nuove disposizioni previste per regolamentare i cantieri rumorosi nella zona mare e in centro storico, nelle prime ore della mattinata e nella prima fascia del pomeriggio. Regolamento che aggiorna anche la pulizia delle deiezioni animali con l'obbligatorietà per i padroni degli amici a quattro zampe di usare bottigliette d'acqua e sacchetti per pulire. Inserite anche indicazioni per intervenire a risolvere situazioni di bivacco. Regole infatti pensate per coinvolgere in modo operativo la polizia locale nel monitoraggio di quanto previsto dal regolamento per il decoro e che valgono per l'intero territorio comunale. Ci occupiamo ora di politica e lo facciamo parlando delle elezioni amministrative a Fano. Manca infatti circa un mese al 7 aprile, data in cui si terranno le elezioni primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato a sindaco fra gli assessori uscenti, mascarin, fattori, lucarelli e fanesi. Quattro profili per un lavoro di squadra presentato attraverso un manifesto programmatico che ci viene illustrato dal segretario del Partito Democratico di Fano, Renato Claudio Minardi. Abbiamo presentato il manifesto programmatico del centro-sinistra, è stato un grande successo ieri sera, una grande partecipazione di cittadini e cittadine, e una grande partecipazione di pubblico che ci ha dato particolare soddisfazione. Naturalmente adesso dobbiamo andare avanti durante le primarie, durante la campagna elettorale per cercare di rappresentare questi cittadini che sono venuti ad ascoltare il manifesto. Il manifesto sono le linee guida di un programma che verrà poi depositato con il candidato o la candidata a sindaco del centro-sinistra. I temi principali sono quelli che devono guardare allo sviluppo della città, una città che guarda al futuro, che guarda ai prossimi 25 anni, una città che guarda ormai al 2050, perché come dico sempre, un amministratore bravo deve essere un amministratore strabico, un amministratore che guarda lontano, nel medio-lungo termine, che quindi guarda le prospettive di sviluppo della città e che quindi sa cogliere le opportunità guardando il futuro, e l'altro occhio deve guardare un po' più a terra, e quindi chiudere le buche, sostituire le lampadine, tagliare l'erba e fare le ordinarie manutenzioni, comprese le asfaltature. Fano ha delle grandi opportunità, è la terza città delle Marche, ha delle grandi opportunità dal punto di vista della cultura e del turismo sicuramente, perché la nostra storia, la nostra storia romana, il ritrovamento quasi sicuramente della Basilica di Vitruvio, devono essere colte come un'opportunità di visibilità, non solo territoriale, ma a livello nazionale e a livello internazionale, dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico. La fabbrica del Carnevale che si sta costruendo con il progetto dell'Archistar Rota, sono sicuramente grandi occasioni, grandi opportunità. Nel contempo bisogna tenere in conto anche le opportunità di sviluppo, le infrastrutture, continuare a battersi affinché Fano sia collegata con l'altra parte dell'Italia, l'Umbria e la Toscana, quindi con il completamento della Fano Grosseto. La viabilità che deve essere migliorata sia a nord che a sud, perché Fano soffre di problemi di viabilità e non possiamo più tollerare che il grosso del traffico passi a ridosso dalle mura romane dopo 2000 anni. Quindi investimenti sulla viabilità devono essere fatti. Dopodiché è chiaro, le terme di Carignano, il porto, il porto turistico, la cantieristica sono sicuramente occasioni e opportunità di sviluppo. Sono stati fatti 250 milioni di investimenti in questi anni, ce ne sono 140 in questo momento in corso e sono sicuramente una grande occasione anche per dire ai cittadini che l'amministrazione di centro-sinistra ha governato e ha governato bene la città. Non è sufficiente per vincere le elezioni. Per vincere le elezioni bisogna convincere i cittadini che nei prossimi cinque anni il sindaco e la nuova giunta saranno capaci di fare anche meglio di ciò che è stato fatto in questi ultimi dieci. L'ultimo tema, ma non è l'ultimo, forse magari lo potremmo considerare il primo, è quello della sanità. Noi non possiamo più immaginare il silenzio assordante da parte della regione nei confronti della sanità della nostra città. Su Pesaro si fanno investimenti importanti, su cui Fano non ha nulla da ridire, ma Fano merita legittimamente di sapere quali saranno gli investimenti sul Santa Croce, quali reparti, quanti posti letto e con quale personale saranno gestiti. Noi non possiamo più immaginare il silenzio assordante da parte della regione e vi ricordiamo che si parlerà di politica anche dopo il nostro telegiornale alle 21.20, infatti in programma Amministrando, dove lo stesso Minardi sarà a confronto con Alessandro Brandoni nel nostro talk di politica condotto da Antonio Astuti. Da Fano ad Urbino invece emerge la candidatura a sindaco di Maria Francesca Crespini, ex assessora nonché vice sindaca di Urbino fino al 2016. La Crespini si candida con la lista civica futura, puntando su linee programmatiche quali economia, ambiente e salute. Tante famiglie pesaresi sono rimaste senza acqua per diverse ore dal tardo pomeriggio di ieri a causa del danneggiamento della condotta di distribuzione idrica in via Corelli che serve proprio le zone di Pantano, Centro e Mare. Un danno che è stato procurato dagli scavi di una ditta privata. Marche Multiservizi ha infatti dovuto interrompere l'erogazione idrica per riparare il danno e il servizio è cominciato gradualmente ad essere ripristinato attorno alle 20. La stessa Marche Multiservizi annuncia che chiederà risarcimento alla ditta privata per il danno subito. Nel prossimo servizio parliamo invece di una eccellenza marchigiana come l'agricoltura biologica e dei benefici che può trarre dall'avvento della digitalizzazione. In un settore che convive fra crisi ed emergenze come quello della produzione agricola innovazione e digitalizzazione delle piccole e medie imprese possono essere determinanti per il futuro della filiera biologica delle Marche. Ma in questo senso il progetto si riparte sistemi digitali rapidi, innovative e partecipati presentato nei giorni scorsi al ristorante Il Torchio di Montefelcino. Un convegno è rientrato nell'ambito del PSR Marche per la sostenibilità dell'agricoltura che ha messo a turno lo stesso progetto il Consorzio Marche Biologiche, la Cooperativa Montebello, l'Università Politecnica delle Marche come partner scientifico e Apravar Group Company come partner tecnologico. Un progetto rivolto alla digitalizzazione delle piccole e medie aziende agricole che hanno aderito alla filiera dei seminativi biologici. È un progetto strategico, soprattutto in un contesto come quello attuale dove abbiamo bisogno di migliorare, efficientare la filiera dei seminativi biologici e crediamo che la digitalizzazione sia accompagnata con dei servizi di consulenza adeguati sia uno strumento strategico per cercare di efficientare la filiera, abbassare i costi di produzione e migliorare anche le performance ambientali. Sappiamo che il contesto attuale dell'agricoltura è molto critico, in questi ultimi anni i costi di produzione sono aumentati, le rese purtroppo complici anche ai cambiamenti climatici, in questi ultimi due anni sono state anche rese basse sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Il mercato stenta a riconoscere quel valore aggiunto che come produttori biologici abbiamo, quindi investire sull'innovazione è una scelta molto importante per cercare di migliorare la nostra organizzazione, efficientare la filiera e fare in modo quindi di valorizzare ulteriormente le nostre produzioni cercando di recuperare nella competitività un elemento strategico della nostra produzione. Nel progetto si riparte e proviamo ad interare delle nuove tecnologie applicandole a quelli che sono gli attrezzi e i trattori non recenti. I trattori recenti e gli attrezzi recenti sono ovviamente dotati di connettività, cosa che invece non hanno i trattori e gli attrezzi di tanti anni fa. Quindi quello che proviamo a fare è installare dei dispositivi che ci consentono di comprendere in tempo reale quello che sta facendo un trattore, magari un trattore cingolato che ha 30 anni, però grazie a questi dispositivi riusciamo a capire dove si trova il trattore e che tipologia di attrezzo è collegato. Questo è importante perché consente di fornire una serie di dati che possono essere inseriti all'interno del registro di campagna semplificando tutte le operazioni di inserimento dati e predisposizione del registro volta a creare una filiera in cui il tracciamento dei dati e delle operazioni venga fatta utilizzando ovviamente l'operatore ma anche la tecnologia che ci consente di ridurre il tempo per inserire i dati. Il tema della digitalizzazione ha tuttavia delle problematiche. In Italia soprattutto se consideriamo i dati strutturali che ci provengono dall'Istat vediamo come sono parecchie le aziende agricole di piccole dimensioni. Diciamo che oltre il 50% sono aziende con una superficie inferiore a 3 ettari e se andiamo a guardare invece l'età degli imprenditori agricoli essi stessi hanno una media molto alta. sono più del 60% le aziende con un'età maggiore ai 60 anni. Questo crea una distanza ovvia dal punto di vista della digitalizzazione per le imprese agricole. Nel nostro progetto i primi risultati del nostro progetto si riparte che è in collaborazione con la Regione Marche e con il Consorzio Montebello insieme ad APRA abbiamo tuttavia riscontrato che non è solo un problema di età grafica quindi di questione legata al fatto di essere o meno nativi digitali o alla dimensione aziendale. Ci sono diversi fattori che possono contribuire all'adozione di tecnologie digitali in agricoltura e quindi che migliorano la sostenibilità della filiera. Quindi i sistemi digitali devono essere resi alle aziende in maniera molto semplice quindi devono essere semplici da adottare e devono essere fruibili da parte delle aziende e devono ovviamente essere anche accettati dal punto di vista sociale. E dall'agricoltura passiamo ad un altro tipo di attività economica quella di Oikos che ha compiuto 40 anni all'insegna della sostenibilità. Oggi mi trovo a San Patrignano e sono qui per festeggiare 40 anni di attività di Oikos. Oikos è un'azienda italiana con sede a Gatteo Mare che si occupa dal 1984 di pittura ecologica quindi utilizza solo ed esclusivamente materie prime naturali. Oggi ripercorre qui i suoi 40 anni e decide di farlo a San Patrignano perché ha un legame profondo con la comunità nata anch'essa negli anni 80. Questi 40 anni trascorsi veramente anche velocemente con tante azioni, con tante attività ma soprattutto abbiamo introdotto un nuovo metodo di interpretare la decorazione del colore ma soprattutto farlo con la massima sostenibilità nel massimo rispetto dell'ambiente, della salute delle persone. Sono 40 anni di meraviglie fatte di colori, fatte di emozioni, fatte di una crescita esponenziale che ha avuto l'azienda. Quando io sono entrata da 32 anni fa la storia produrre in una maniera sostenibile, fare delle cose meravigliose, riprendere la decorazione era proprio nella sua nascita. In questi 40 anni si sono fatti passi da gigante, da prodotti che sono nati, dalle qualità, dove sono andati? Oggi tutto il mondo ha qualcosa di Oikos. I progetti più importanti, più impegnativi in giro per il mondo hanno qualcosa di Oikos. Oikos ha segnato veramente la storia della decorazione italiana in tutto il mondo. Oggi in realtà tutte le aziende guardano alla sostenibilità, è un po' un tema centrale, però credo che nel 1984 poteva essere considerato un visionario da questo punto di vista. E dico per fortuna che oggi ci sono tante aziende e devo dire che ancora sono poche quelle che guardano con realtà e con onestà lo sostenibilità. Perché vestirsi di verde, dire che siamo green è bello, fa moda, fa tendenza, ma bisogna farlo. Allora l'invito che faccio sempre a tutti gli imprenditori è che io sono riuscito e ho fatto business nel rispetto dell'ambiente. Si può fare business nel rispetto dell'ambiente, basta crederci e volerlo. Ecco, noi lavoriamo nel settore delle vernici, delle pitture, tipicamente chimica, che ha avuto un percorso forte con un impatto notevole. Ecco, allora noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti a farlo, perché ne siamo convinti, perché siamo tuttora oggi sempre alla ricerca del meglio, del più sostenibile, nonostante che lo facciamo. E quindi si può fare. Il claim di oggi, di questa bellissima giornata dedicata ovviamente ad OICOS, è ritorno al futuro nel rispetto del passato. Che cosa vuol dire, Presidente? È una bella frase, perché dà un valore forte a quello che è il nostro passato, non solo come azienda, ma della nostra storia, perché noi siamo andati a prendere ciò che si faceva nell'antichità, che non esisteva la chimica, non esistevano tutto quello che oggi abbiamo, e quindi comunque c'era il colore, comunque c'erano le decorazioni. La testimonianza lo sono tutti i ritrovi storici nei palazzi che li vediamo costantemente, l'Italia è piena di questo. Quindi il rispetto del passato, perché era possibile farlo con prodotti naturali, con pigmenti naturali, è oggi guardare al futuro e dire se ieri è stato fatto tanto, è possibile farlo anche nel futuro. Nuova organizzazione chirurgica, un nuovo tavolo operatorio per l'ospedale di Pergola. Da questa settimana, infatti, il nosocomio Santi Donnino e Carlo implementa ulteriormente l'attività chirurgica di media e bassa intensità che nell'anno appena trascorso ha visto già un incremento del 46% rispetto al 2022. Secondo la direttrice generale Storti, l'inserimento di un nuovo dispositivo contribuerà ulteriormente a far crescere il numero di seduti operatori che per i pazienti significa abbattere le liste d'attesa per i ricoveri di chirurgia, di interventi di media e bassa complessità nella nostra provincia. E ora ci occupiamo di appuntamenti culturali, parliamo ad esempio di teatro, perché giovedì 7 marzo alle 21 al teatro Giovanni Branca di Sant'Angelo in Lizzola andrei scena a Marlène Di, storia di un angelo azzurro, recita al scritto da Laura Corraducci che racconta la storia e la vita di Marlène Dietrich, una delle più grandi attrici del secolo scorso. Sul palco, oltre alla Corraducci, la cantante Frida Neri, accompagnata dal violino di Ketevan Abiatari con un omaggio del giovane Diego Pulzoni. E parliamo anche di teatro dialettale, segnalandovi la commedia Chi si accontenta godda il Politeama Rossi di Fano. Si tratta di una divertente vicenda familiare messa in scena dalla compagnia Gaff, scritta e diretta da Lucio e Fabrizio Signoretti. Spettacolo che andrà in scena per tre sere, l'11, 12 e 13 marzo, sempre alle ore 21 e 15. E continuano a nascere anche nuovi progetti per quello che riguarda Pesaro Capitale della Cultura. Questa sera parliamo di musica con un podcast realizzato dall'Orchestra Olimpia, già protagonista della cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Di Classica è un podcast di produzione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, ed è l'Orchestra Olimpia. L'idea di questo podcast è nata da Margherita Macri, che è una persona che stimo e conosco da molto tempo, ma si incontra a livello cronologico con la scrittura del dossier da parte di Pesaro Capitale della Cultura. Potrete ascoltare otto puntate in uscita in maniera sfalzata l'una dall'altra. La prima puntata sarà l'8 marzo. All'interno di ogni puntata sarà possibile fare degli ascolti vari, vari sia come periodo storico che come tipologia di organico, quindi ci sono strumenti solissimi, ma ci sono anche piccoli ensemble, l'orchestra e c'è anche un brano con il coro. Le otto puntate di Di Classica sono un viaggio intorno al mondo. Partiamo dall'America a arrivare fino alla Cina. C'è anche una tappa in Italia con Metaura Torricelli, che è una violinista che fra 800 e 900 girò tutto il mondo come grande virtuosa e che ha avuto i suoi Natali a Fossombrone, dove questo podcast poi è stato registrato. Gli artisti coinvolti sono le musiciste di Orchestra Olimpia, poi ci sono anche delle soliste che abbiamo coinvolto, che sono del territorio ma che vivono nel mondo. Abbiamo anche un uomo, Raffaele Damen, che partecipa alla puntata di Sofia Gubaidulina. Il mio contributo per questo progetto è stato quello di produrre una sigla, che avrete il piacere di ascoltare con l'uscita delle puntate. Ho partecipato a questo bando, è stato selezionato il mio pezzo, e poi è continuato la collaborazione con la direzione artistica di Orchestra Olimpia. Per cui l'8 marzo ci sarà anche l'evento inaugurale al Gra, verrà fatto un DJ set di musica classica e una performance di danza contemporanea. E si conclude qui il nostro telegiornale. Come vi abbiamo anticipato, prima serata di questo martedì sarà dedicata ad amministrando la nostra marcia di avvicinamento verso le elezioni 2024. Ci concentriamo sulla città di Fano con il nostro Antonio Astuti, che avrà ospiti questa sera il segretario del Partito Democratico di Fano, Renato Claudio Minardi, e il segretario della Lega di Fano, Alessandro Brandoni, appuntamento come ogni martedì alle 21.20. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra segna stampa dei quotidiani locali, che per questo mercoledì sarà condotto dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Si conclude qui invece l'informazione di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.